cari telespettatori ben ritrovati a conoscere i funghi ci troviamo in un bosco misto in prossimità di alcuni abete rossi e abbiamo trovato una spezia che però non è legata né alle latifoglie né all'abete rosso infatti questa specie è legata esclusivamente all'abete bianco poco lontano infatti l'abete bianco c'è si tratta di lactarius salmonicolor il fungo si presenta inizialmente con una forma quasi convessa e poi tende a spianare e da una superficie abbastanza liscia un po grassa un po untuosa al tatto presenta delle zonature leggere concentriche di colore più carico e colori prevalenti sono sull'aranciato aranciato ocra le lamelle sono lamelle color aranciato con una tendenza al color salmone piuttosto fitte e leggermente decorrente una caratteristica importante per riconoscere questo fungo è la presenza degli scrobicoli sul gambo gli scrobicoli sono queste macchie di colore più carico che sono leggermente depresse rispetto alla superficie il latice di questo fungo è un latice arancione abbastanza abbondante che macchia nettamente qualsiasi cosa venga a contatto io faccio la prova col dito vedete si vede o se no proviamo direttamente sulla mano abbiamo conosciuto in questa occasione l'actarius salmonicolor una specie piuttosto diffusa nel nostro territorio commestibile legata in modo esclusivo alla abete bianco è tutto per oggi ci vediamo con una nuova specie